intervenire per primo del mio gruppo consigliare a cercare di spiegare ancora una volta le ragioni di una scelta delle quali io non credevo fosse necessario dover dare ancora motivazioni. Dico subito che ho apprezzato gli interventi che ci sono stati fino a qui escluso quello che mi ha preceduto perché gli ho trovati degli interventi profondi e sinceramente degni di questo momento così difficile che è un momento molto difficile per il Paese, molto difficile e complesso anche nelle analisi politiche per molti motivi. Alleanza Popolare ha preso una scelta che forse si capisce solamente guardando tutta questa legislatura qualcuno l'ha già ricordato prima di me, questa è stata una legislatura che in molti che ne hanno vissute anche di precedenti hanno riconosciuto essere stato un vero e proprio unicum, l'esplodere della questione morale la formazione già iniziale di una maggioranza che comunque andava oltre le normali dinamiche del confronto politico e poi dicevo appunto l'esplodere della questione morale ed altre difficoltà. Questione morale che Alleanza Popolare ha affrontato, io credo di poter dire, mantenendo calma e sangue freddo e chiedendo una verifica di governo impostata anche non solo sui contenuti ma anche su un'assunzione di responsabilità. Abbiamo passato anche quel momento così difficile e a inizio legislatura siamo riusciti ad ottenere l'uscita dalla blacklist, ad affrontare percorso peraltro già intavolato nella passata legislatura e per il quale tanto si è dovuto combattere. Siamo riusciti a portare a termine una riforma IGR che è stata assolutamente impegnativa e per la quale peraltro probabilmente servivano anche diverse cautele nell'applicazione di alcuni strumenti come magari la SMAC che dovevano essere meglio accompagnati ma che però è stata una riforma importante per il Paese. Siamo riusciti da ultimo a concretizzare, passando anche attraverso un referendum estremamente impegnativo il progetto del Polo della Moda, siamo riusciti a diminuire la spesa corrente e questo è un dato evidente e siamo riusciti sempre in questa legislatura proprio per consentire l'emergere di quella questione morale a fare delle leggi che hanno consentito al Tribunale di operare ampiamente. Chi volesse disconoscere queste cose non leggerebbe la realtà nella sua evidenza, io credo. Poi ci possono essere opinioni diverse su tutti questi argomenti e alcuni magari li può vedere anche come dei punti di debolezza. Io credo che siano stati tutti dei punti di forza. Ma la legislatura è stata anche altro e io credo che così come dobbiamo ammettere che questi risultati conseguiti sono stati importanti, però non possiamo non renderci conto di quale altre problematiche sono emerse o meglio si sono delineate con maggiore chiarezza sul finire di questa legislatura nei mesi precedenti che sono tematiche non di minor rilievo, non di poco conto. E allora l'abbiamo detto, abbiamo assistito ad un certo punto ad una stasi, ad un blocco nell'azione del Governo e della maggioranza. Su tematiche non banali erano in discussione, e sono tuttora in discussione, il futuro del sistema bancario e finanziario del Paese, l'autonomia che veniva vista con diverse sfumature della nostra Banca Centrale, la gestione degli NPL che afferisce sempre alle questioni del sistema bancario finanziario e finanziario. E poi giù giù una possibile riforma del sistema previdenziale. E allora mi viene da dire, perché credo che meriti una risposta, diciamo così, veramente dialogica che si rende conto di quali sono state le affermazioni, che è vero che forse oggi ci troviamo davanti ad ostacoli meno difficili di quelli della passata legislatura, ma sono degli ostacoli che possono essere più divisivi. Uscire dalla blacklist era un risultato semplice da comprendere, da comprendere dico, non da conseguire, un risultato semplice da comprendere. E non ci potevano essere visioni diverse, eppure le abbiamo viste lo stesso, perché abbiamo visto anche chi continuava a sostenere magari il mantenimento dello status quo, oggi alcuni rigurgiti di volontà di ritorno a quel precedente status quo ante. Oggi quello che ci aspetta per il futuro del Paese sono scelte, dicevo, magari più semplici da effettuare, ma più divisive. E allora è proprio in questo che sta la proposta che Alleanza Popolare ha formulato uscendo da questa situazione. Un'unità nazionale che senso doveva avere? Doveva avere proprio il senso di riuscire a mettere un punto fermo a mettere ad una tensione che si era alzata in maniera verticale ed esponenziale e a vedere se ci fossero state le condizioni da parte di tutti, Alleanza Popolare l'ha ricordato il segretario Mularoni, non ha messo paletti, non ha messo esclusioni, per riuscire a vedere se si fosse stati in grado di mettere da parte alcune posizioni che già si erano concretizzate, si erano oramai espresse e forse in alcuni casi anche sclerotizzate, per vedere se invece si riusciva a trovare delle mediazioni, a trovare dei punti di confronto. Perché poi c'è un altro problema, un altro problema costante di questo Paese, che le situazioni non si affrontano solamente per quello che sono nella loro tecnicalità o nella loro gestione, ma si affrontano sempre anche con dei retropensieri, secondo le domande più costanti che sono chi o cosa c'è dietro. Ecco, io spero ancora, per giunta anche perché questa proposta ha trovato consenso anche in vari settori della società civile, dalle associazioni di categoria ad altre, che si sono espresse sentendo la necessità di questo percorso, che era un percorso che non doveva riguardare solamente la politica, ma che avrebbe dovuto riguardare anche la società civile, anche le associazioni di categoria, anche le associazioni sindacali, proprio per riuscire in un momento così difficile a fare squadra, ad evitare magari scioperi generali di fronte a delle decisioni che sappiamo ci attendono e sono impopolari e credo che sarà già importante che tutti siamo consapevoli che chi in campagna elettorale dirà qualcosa di diverso mentirà sapendo di mentire oppure non vorrà dire certe cose. Io non credo che potremo affrontare la campagna elettorale, a prescindere da quali saranno gli schieramenti, sostenendo che tutto va bene e sono rincuorato dal fatto che fino ad ora non l'ho sentito dire. Ma dicevo, una situazione politica così ingarbugliata e così difficile che ha fatto pensare e fa pensare tuttora a delle soluzioni che non sono riedizioni del passato, ma che sono delle soluzioni, se volete, anche più fantasiose e che puntano anche in avanti. Sarà possibile realizzarle? Probabilmente no, lo abbiamo già visto, probabilmente no. Ma un auspicio credo debba rimanere e l'auspicio è che il confronto possa essere sempre a tutti i livelli, fatto in modo tale che l'interesse primario sia quello di guardare ai contenuti e alle proposte. E quindi sarà necessario aggredire immediatamente quelle che sono considerate delle vere e proprie emergenze. E spero sinceramente che in questi mesi in cui si svolgerà la campagna elettorale non si vogliano tentare delle scorciatoie o delle accelerazioni che probabilmente non sarebbero utili. Quello che è utile è riuscire ad arrivare ad un grado di consapevolezza precisa anche all'interno di tutta la nostra popolazione. Questo lo dobbiamo. Credo che l'Alleanza Popolare sia sostenitore da tempo, e lo sono anche io, che non esistano problemi che vanno taciuti per essere meglio risolti. Esistono problemi che devono essere esplicitati con una premessa, che se c'è la volontà e che se avremo la forza anche intellettuale di affrontare quei problemi sono risolvibili. Che un futuro possibile per il nostro Paese, per la Repubblica di San Marino, esiste. E questo è importantissimo che noi lo diciamo. Un'altra specificazione la devo fare su quello che è stato l'andamento diciamo così della crisi dalla apertura della crisi. Qualcuno ha sostenuto che forse sono stati commessi, voglio dire così, errori strategici oppure che non sono state sondate tutte le strade percorribili. Ecco, io dico che questo è un interrogativo che io continuo a pormi e che probabilmente mi porrò anche successivamente, ma che è un interrogativo oramai che riguarda la storia, la storia politica del mio movimento, la storia politica personale anche nostra, però credo anche che se ci fosse stata o se ci fosse la volontà di arrivare a delle scelte diverse e a delle conclusioni diverse, questo sarebbe stato e sarebbe percorribile. Ma è ovvio, la politica è una strada molto molto complessa, molto molto articolata, nella quale poi è difficile pensare che le posizioni dei singoli o i posizionamenti anche elettorali dei vari partiti possano essere messi da parte, perché guardate, io credo sinceramente che una coalizione ampia in questo momento probabilmente non avrebbe avuto neppure dei grandi successi elettorali, ma sarebbe stata quella che in altri casi anche si è chiamata un'operazione verità fatta in maniera molto concreta. Da adesso bisogna andare avanti, io sono molto contento che venga accelerato l'iter per lo scioglimento del Consiglio Grande e Generale, bisogna andare avanti cercando che questa campagna elettorale non sia solamente un posizionamento elettorale, ma cercando anche di far capire alla cittadinanza che questo momento così grave che noi stiamo vivendo come intero sistema Paese ha delle soluzioni possibili, ha delle soluzioni che sono alla portata, ma per raggiungerle servono delle scelte tempestive, coraggiose e indubbiamente consapevoli. Poi magari in replica dirò qualche cos'altro rispetto a quello che è stato detto nel dibattito fino ad ora. Grazie, eccellenza. Grazie, consigliere Renzi. La parola al segretario di Stato Arzilli. Grazie, eccellenza. Grazie.